Ciao, ciao, ben arrivato e grazie per la visione. Ciao, ciao. Conoscete tutti voi? Atilio, il presidente della comunità. Uno, due, il dirigente. Sì, ho visto, però ho visto che avete sistemato. Sì, ho visto che abbiamo fatto un po' di barba. Andiamo, andiamo, andiamo di qua. Se vogliamo fare un buon momento, oltre a fare un po' di barba. Siamo ripiantati le chiave. Come se non fosse anche a di colpa. Ah, secondo me... Senti, oggi. Oh. Il fatto che i simboli siano rimasti in piedi... Per noi è stato arrivato alla cattedrale... E' un po' di militare per noi. Senta quelle opere che sono... Questa vuol dire che... Questa vuol dire che... Ad μαccare a Sydney, Potrebbero come io... Potrebbero come io... Potrebbero contribuiscere... Grazie. Grazie. Questa è una specie di teatro. Questa è il teatro. Però l'abbiamo risistemato, vero? Madonna. Quaro, fermatevi ancora un secondo che sono chi che ha... ...di fatti siamo anche molto più ottimisti adesso rispetto a come eravamo prima. E poi vedi la risposta del pubblico, la gente che inizia a fermare... ...di fatti vivi. Anche 46. Anche da clienti, associazioni... ...c'è un altro... ...di un altro... ...di un altro... ...di un altro... ...di volontari... ...di un altro... ...di un altro... ...di un altro... ...di un altro... ... 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